Mettersi nei panni degli altri Cogli l'attimo La grande farò il vigile sottomarino La pettinatrice di girasoli Il collezionista di ciabatte L'oracolo dei palloni L'allevatrice di unicorni Il cavalcatore di tartarughe La sarta di nuvole Il benginario dei cavalli L'oculista dei gatti E chissà cos'altro ancora Nel 2022 Le mani di Dada Illustrano 12 pratiche Che eroicamente ci impegnano nel quotidiano E 12 storie curate da Elisa Ci porta in un mondo Straordinario I've come here to make a ceramic shoe And I've come to smash what you made Come to learn I've come to learn Grazie.